Via libera del Consiglio Comunale al Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile, la cui spina dorsale è rappresentata dalla cura del ferro. Previsti i prolungamenti della metro A, oltre Battistini, verso Torre Vecchia da un lato e verso Montemario dall'altro, della linea B che dovrà proseguire oltre Rebibbia fino a Casal Monastero, poi la prosecuzione della metro C con le tratte T1 e T2 e con la diramazione C2 e poi la linea D. Altro elemento cardine del Pums sono le linee tramviarie, le quattro commissariate, ovvero la Termini Vaticano Aurelio, la linea sulla Togliatti, la Termini Giardinetti Tor Vergata e la linea di congiungimento tra Piazzale del Verano e la Stazione Termini e poi le altre sette linee tramviarie già in fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica che da qui al 2030 disegneranno una città con 17 linee tram.